segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te prendo stasera capitello poi ci rivediamo fra un anno e se ci avrete dato il voto avremo vinto le elezioni non e non avremo fatto quello che ho detto stasera siete titolati a sternacchiarmi a zerare la legge fornero e avviare quota 41 andare in pensione dopo 41 anni di lavoro è un sacrosanto diritto lo dobbiamo spernacchiare salvini a questo punto cioè lo devono spernacchiare non noi ma i suoi diciamo fan che erano a corsi in campagna elettorale cosa dice la fornero è ancora lì la legge dico oltre che lei guardi io devo dire che sono un po imbarazzata stasera perché ho sentito se ho sentito bene una dichiarazione di giorgetti che parla di una bozza che non rispecchierebbe i contenuti della manovra questo mi preoccupa perché potrebbe essere un segno che a dispetto del fatto che lo stesso salvini aveva detto una settimana fa o al primo consiglio dei ministri in cui si è parlato di questa manovra aveva detto nessuno presenterà emendamenti andiamo avanti compatti siamo tutti d'accordo ebbene se le cose stanno così adesso invece neppure giorgetti sembra più sicuro di della bozza che abbiamo visto ieri e che io credevo fosse quasi ufficiale io devo dire che sono preoccupata perché non vorrei che ci fossero delle pressioni troppo forti sulla lega per tornare indietro rispetto a quel po di responsabilità che almeno per la parte pensionistica la manovra presentava questo è una cosa che francamente mi preoccupa perché se poi non si sa di che cosa discutiamo è così però anche le immagini che avete mandato prima non è che mi lasciano proprio del tutto priva di emozioni quindi io penso che gli elettori si ricorderanno di tante promesse calpestate di tante sciocchezze dette di di tante di tanto avvelenamento se vediamo le cose che succedono da questa è la casa dei miei genitori e lui era lì con un po le stiamo vedendo diciamo le manifestazioni si ad persona ma a contrapersonam diciamo sotto casa sì sì quando lei fece la legge fornero e beh insomma una cosa è una cosa penosa per me ma direi vorrei dire più penosa per lui io non so quanto darebbe per non aver fatto tutte le cose gravi ho detto tutte le cose gravi che ha detto negli anni passati oggi che si trova al governo sta facendo finta di niente però come voi dimostrate le immagini ci sono le testimonianze di ciò che ha detto sono disponibili a tutti e io penso che gli elettori ma guardi vorrei dirle che io sto ricevendo messaggi da persone che hanno votato la lega esattamente perché pensavano che poi sarebbe stato appunto cancellata la legge stabilito il pensionamento facile del passato e adesso mi dicono ci ha traditi questo dicono scrivono a me ecco abbiamo capito professor bueri però mi faccia capire nel concetto